Ne abbiamo un po' scorsi. I ribelli si stanno scontrando col cartello. Diamo una mano? I ribelli si stanno scontrando col cartello. I ribelli si stanno scontrando col cartello. Non c'è paura. Arrivo. Helicoptero. Chup, chup. Grazie. Nemico a terra. I nemici sono a terra. L'area è libera. Qui, Bowman. Pare proprio che abbiate fatto un bel casino, Okoro. Persino il Suegno ha sentito dei vostri attacchi e ora vuole vendicarsi. Eliaio sta cercando di coprire suo nipote, ma si trova tra l'incudine e il martello. Il Suegno esige una spiegazione da El Emissario, mentre Eliaio sta cercando di trovare una soluzione per tenere in vita il nipote. Ci serve a qualcosa? Eliaio è stato al telefono con El Emissario per buona parte della giornata, quindi siamo riusciti a triangolare la sua posizione. È la nostra occasione. El Emissario si trova in una brutta situazione. Se lo catturiamo adesso ci dirà tutto. Darci le coordinate, ci pensiamo noi. Occorre un casino. Ed il Suegno vuole la testa di El Emissario. Nemmeno Eliaio può proteggerlo ora. Trovate l'Emissario e portatelo dentro. Vediamo se riusciamo a trovare un accordo. Qualcuno vuole spiegarmi perché stiamo estraendo El Emissario. Un attimo. Elicottero, a terra. Qualcuno vuole spiegarmi perché stiamo estraendo El Emissario. Un momento. Qualcuno vuole spiegarmi perché stiamo estraendo El Emissario. Sappiamo che è arrivato dov'è grazie a... Un secondo. Giù, a terra. Elicottero. Elicottero. Qualcuno vuole spiegarmi perché stiamo estraendo El Emissario. Sappiamo che è arrivato dov'è grazie a suo nonno. Non è esattamente un pilastro del cartello. Hai un'idea migliore? Sì, lasciamo il bastardo al suo destino. Perché dobbiamo rischiare così tanto a Okoro? Emissario è solo un pedone. Bowman punta a El Giaio. Se l'Emissario sparisce, il suegno dovrà dare la colpa a qualcun altro per quello che è successo. Se la prenderà con El Giaio, il che ci dà un'opportunità di catturarlo. Merda, quando Bowman vuole qualcuno non va per il sottile. Ci vuoi scommettere? Eccellente. Congratulazioni per aver difeso l'ospedale dagli uomini di El Emissario. Mi ferisce un po' nell'orgoglio ammettere che senza di voi non ce l'avremmo fatta. Non ti preoccupare, Katari. Segniamo tutto sul conto. C'è un'altra cosa. Prima che gli uomini di El Emissario attaccassero l'ospedale, uno dei miei ha caricato dei vaccini su un camion per portarli al sicuro. Purtroppo è stato fermato a un posto di blocco dell'Unidad, dove hanno confiscato il camion. Quei vaccini sono vitali. Il camion è alla base dell'Unidad, adesso. So che vi chiedo molto, ma francamente non c'è nessun altro in grado di farlo. Capito, faremo il possibile. L'Unidad ha confiscato un camion di medicina ai ribelli. Dovete recuperarlo e farlo arrivare agli uomini di Katari. Faranno buon uso delle medicine. Il Katari ha trovato tutto l'Asia. Dobbiamo solo arrivare. Spargo. 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 Grazie a tutti. 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 A tutti. Grazie 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 a tutti. Occhio. Grazie a tutti.